oggi ultima puntata dell'anno del nostro podcast un anno da mille oreca short news ma anche un anno con molti spunti di vista senza dimenticare il nostro spiridon luis domani un video auguri con le parole giuste per un 2024 in trend oreca short news e offerta da ferrarelle per la tua sette di piacere prime uve buonaventura maschio buongiorno e bentrovati su oreca channel italia eccoci qui con l'ultima puntata dell'anno del nostro podcast l'ultima di 180 puntate che abbiamo trasmesso quest'anno un'attività continua e costante che ci ha permesso di dare in formato short news qualcosa come mille notizie il nostro speciale tg che ha ospitato tanti operatori e manager oreca è raccontato notizia dopo notizia tutto quello che è accaduto nel sempre dinamico multiforme mondo del fuoricasa italiano nel 2023 ma il risultato più gratificante è quello che ci è giunto dagli ascoltatori fra youtube e spotify e altre piattaforme in streaming e poi le storie su instagram e nel nostro broadcast su whatsapp il podcast oreca short news nel 2023 ha complessivamente registrato fra visualizzazioni ascolti circa 250.000 contatti un audience quanto mai lusinghiera che ci sprona a fare sempre meglio ed è quanto contiamo di fare per il prossimo anno che è alle porte un impegno quello della redazione di oreca channel italia che è un imperativo anche per le altre rubriche in palinsesto su tutte la nostra spunti di vista l'appuntamento settimanale con le interviste ai protagonisti del settore 44 puntate quest'anno per 110.000 visualizzazioni su youtube una performance che traina altre nostre rubriche come oreca in trend dove diamo i numeri mensili del beverage oreca e aziende e innovazioni video dedicato in esclusiva ai prodotti e progetti innovativi delle aziende inserzioniste di oreca channel italia aziende che ringraziamo tutte di cuore per la fiducia accordata a questa iniziativa editoriale non possiamo poi non parlare di spiri don luis il brogliaccio di idee dedicato ai distributori beverage sul quale scrivono autorevoli esperti di settore professionisti che con i loro contenuti rendono ricca e speciale questa pubblicazione in descrizione di questo video trovate il link per scaricare gratuitamente il digital dell'edizione di dicembre mentre il book cartaceo è in consegna proprio in questi giorni insieme al nostro calendario motivazionale del 2024 in conclusione i nostri format show pizza social club che nasce anche grazie all'esperienza maturata nella pubblicazione della rivista pizza e core un'altra delle nostre storiche pubblicazioni in pizza social club oltre alla pizza trova spazio anche la birra che è in pizzeria e indubbiamente la regina delle bevande altro format show di grande impatto è shakerando dedicato al bere miscelato la ribalta perfetta per soft drink e spirits proprio oggi sul nostro canale alle 18 in premier la speciale puntata dei drink per le feste ultimo annuncio è per domani dove abbiamo preparato uno speciale video di auguri dove con un gruppo di amici lanceremo le parole magiche per il 2024 per un nuovo anno che ci auguriamo sia formidabile formidabile anzitutto per voi grazie per l'ascolto e ancora auguri